Chiusa l'oasi Capelli di Venere a Casaletto Spartano, mercoledì il responsabile dell'area tecnica del comune ha diramato l'ordinanza che preclude l'accesso all'apprezzata area turistica delle cascate a causa dei danni riportati dal maltempo. Gli intensi fenomeni temporaleschi dei giorni scorsi hanno infatti determinato un ingrossamento del rio Casaletto che in alcuni punti è straripato danneggiando la passerella in legno di accesso alla cascata, vari tratti della staccionata di protezione, l'area antistante, il mulino e la sua porta d'accesso con acque e detriti finiti all'interno del macinatoio e lungo le sponde del fiume. Già stamane sono scattati i lavori di pulizia e rifacimento dei tratti danneggiati ma per consentire gli interventi e garantire la sicurezza ai tanti visitatori che con il bel tempo di solito si riversano in questo affascinante luogo naturalistico, l'oasi è stata temporaneamente chiusa. Danni da maltempo ancora una volta anche a Pisciotta che stenta a risollevarsi dopo gli allagamenti e le frane verificatesi solo qualche settimana fa. Poco dopo la mezzanotte due trombe d'aria si sono abbattute una marina di Pisciotta e un'altra a Caprioli determinando danni e tanta paura. I tetti di alcune case si sono scoperchiati, le tegole finite in balia del vento sono cadute a terra generando danni anche alle auto in sosta. I balconi e i loro arredamenti sono stati messi a soquadro e diversi detriti e materiali sono finiti per strada. Fortunatamente nessun ferito. Stamane Pisciotta è tornata a rimboccarsi le maniche. La cittadina resta comunque in difficoltà dopo i diversi smottamenti dovuti alla precedente ondata di maltempo che hanno interessato la viabilità attorno al comune. Resta chiusa infatti la strada che collega Pisciotta ad Ascea.